ciao youtubers siete pronti per gli oscar di stanotte io non vedo l'ora di vedere premiati il meglio del meglio del 2016 anche nelle categorie tecniche mi interessano molto abbiamo parlato di quelle musicali di quelle audio e della doppietta trucco ed effetti visivi adesso parliamo di categorie più artistiche molto care anche al teatro ossia migliori scenografie e migliori costumi i candidati nel primo caso sono il fantascientifico arrival abbiamo animali fantastici e dove trovarli dal mondo magico di harry potter abbiamo la la land abbiamo il film dei fratelli cohen ave cesare candidato purtroppo sono in questa categoria e l'altro fantascientifico passengers dunque qui è una bella lotta perché allora al sindacato per il sindacato degli scenografi hanno vinto la la land per i film contemporanei hidden figures il diritto di contare tra quelli d'epoca almeno mi pare e passengers per quelli fantasy però ai bafta ha vinto animali fantastici dove trovarli il film per cui faccio maggiormente il tifo almeno una vittoria nel magico di harry potter deve esserci otto film di harry potter e neanche un premio tra di loro però almeno in questo caso speriamo di cominciare bene però forse potrebbe vincere la la land che ha vinto anche il critics choice award per le scenografie staremo a vedere per i costumi invece ritroviamo appunto la la land e animali fantastici dove trovarli ai quali si aggiungono la crime story mista a romantico allied il nuovo film di robert zemeckis con la coppia brad pitt e marion cotillard unica candidatura che ho tenuto il film abbiamo florence foster jenkins con la cantante soprano stonata interpretata magistralmente da meryl streep abbiamo jackie film su jacqueline kennedy interpretata dalla sublime natalie portman e infine abbiamo candidato un attimo non vorrei fare una figura di merda perché me lo ricordo c'è il fioglio qui sotto e vediamo un po no gli ho detti tutti abbiamo allied animali fantastici dove trovarli la la land florence foster jenkins e jackie quest'ultimo dovrebbe vincere probabilmente perché ha vinto il critics choice award e il bafta l'oscar inglese però non è detta l'ultima parola perché ai premi del sindacato dei costumisti gli ultimi che vengono assegnati prima degli oscar né jackie né florence foster jenkins il film per cui faccio il tifo hanno vinto nella categoria film d'epoca ma ha vinto il diritto di contare che però agli oscar è stato ignorato tra i film contemporanei vince la la land che è candidato mentre i film fantasy non ha vinto animali fantastici dove trovarli pensi doctor strange che era candidato al bafta e ai critics choice award mi pare ma non agli oscar quindi tutto può succedere vedremo un po scusate io sto andando a memoria perché io me le ricordo ma ho avuto un attimo di vuoto e mi sono dimenticato di essermi ricordati tutti i candidati per le scenografie i costumi trionferai in entrambi i casi la la land vincerà qualcosa animali fantastici e dove trovarli i biopic florence foster jenkins e jackie si contenteranno la vittoria per i costumi e per l'attrice protagonista di cui parleremo in seguito vedremo intanto ci vediamo per stanotte per gli oscar godetevi tutti questi video spero che vi piacciono nonostante i vari ciao a tutti